Allora, ragazzi, monologo, prima di parlare di Bologna-Roma, dove ho anche delle notizie proprio da Bologna, io voglio dire una cosa, voglio partire da un discorso, allora, basta fare questa stampa cortigiana a un allenatore che lo fate scadere proprio professionalmente, perché Murigno è un allenatore che ha una storia incredibile, 26 titoli lo state facendo passare per Giampaolo. Allora, innanzitutto basta anche dire cazzate per discorso di giovani, quello o quell'altro, Murigno ha fatto più o meno quello che hanno fatto tutti gli allenatori della Roma dal 1970 ad oggi, prima non la conosco la storia, la Roma, i giovani romani che sono esorditi in prima squadra, che sono diventati capitani, che sono andati a giocare in altre squadre, che la Roma ci ha fatti i soldi, che sono rimasti a giocare la Roma, sono centinaia un altro po', veramente, me ne potrei, dal 70 adesso credo che si arriva quasi a un centinaio, e Murigno, giustamente, che in una partita come ieri, in contancazzo, all'ultimo manco più risultato, deve riposare gente per Bologna, fa entrappisilli, fa gol per carità del Dio, però quello era successo anche con Fonseca, vi ricordo Fonseca prima di Murigno, che fa i soldi altri giocatori, Calafiori, quello o quell'altro, vabbè, ma è sempre esistito, è sempre bove anche Fonseca, ma è sempre esistito, Spalletti ci ha accampato con i Primavera, che stavano in panchina, e che c'era 13 giocatori, il resto erano Cacarosi, Pirga, Simone Palermo, tutti questi di turno, perciò fa passare sta cosa come se fosse una cosa, perché c'è Murigno, cioè voi, o veramente, no, voi siete impostori, perché io non credo che voi non vi ricordate la storia della Roma, voi siete impostori, perché oggi Augusto Ciardi che dice, che, Augusto Ciardi oggi dice, e no, solo a Roma di Ericsson ha fatto, credo a Naso esordi più a giocatori di Murigno, non è vero, la Roma del primo Spalletti ne ha fatti esordi come questa qua di Murigno, non è vero, purtroppo ci sono state di Rome dove c'era la Champions League e le squadre forti, è normale che potevano esordire meno i giocatori, con il capello hanno esordito De Rossi, per dire, non mi ricordo due, D'Agostino, ma erano forti, primavera, erano forti, ma la Roma c'era una squadra dei campioni e faceva Champions League, che era un'altra competizione, per quanto riguarda invece la Roma di pallotta, la Roma di pallotta anche là, qualche giocatore esordito, ma Roma faceva Champions League, come fai a fare esordi in giocatore in Champions League, oppure te stai all'ottava Champions League, è più difficile, ma il vivaio della Roma è proprio il vanto del nostro club, cioè la Roma c'ha proprio questa, e il settore giovanile non è che Murigno si è inventato qualcosa, poi ragazzi andiamo alle parole oggi, sempre lo dico, D'Agosto Cerdì, perché lo devo dire, ragazzi ne faccio manco con lui, perché se tu in una settimana fai due articoli dove dici queste cose qua, allora, leggo l'inizio, vabbè, l'inizio dove dice, era chiaro ieri sera che la Roma, pure se avesse vinto 10-0, non sarebbe riuscita a scalare la classifica del girone, un miracolo svanito anche per i più optimisti, quando Slavia Braga è iniziato a fare gol dopo un ruotaggio iniziale, e qualche rischio contro il Servette, Roma Sheriff è stata comunque una partita non banale, per l'ennesimo bagno di folla e per le lacrime dell'ennesimo ragazzino lanciato in orbita da Giuseppe Murigno, le lacrime di Pisilli, che il tecnico aveva già battezzato a giugno, quando ci confidava che avrebbe iniziato il percorso di Bove e Zalensky, ragazzi, di Pisilli, io ve lo racconto dall'altro anno, chi mi segue, quando mi dicono quello, quello e l'altro, dico ragazzi, quello più forte da Roma è Pisilli, perché ho un amico che va di tutte le partite da primavera, è Pisilli, e vi dico, se mette qualche chilo in più, Pisilli potrebbe diventare addirittura meglio di Pellegrini in futuro, ma è più forte di Bove, pensa che vi ho detto io, perciò non mi sembra una cosa così clamorosa, ma da qua si legge proprio come lui, che parla con Murigno, ragazzi, è certificata questa cosa, proprio non ce la fa, cioè lui fa passare questa cosa come Murigno, ok? E poi parla, ora entra nel vivo lo sprint di fine girone di andata del campionato, e si continua ad alimentare le voci sul futuro del tecnico portoghese, manca solo una componente per intavolare una trattativa di rinnovo, l'appuntamento, è quello che va detto da Iale, che da Iale vi dice, e rinnovo non c'è stato, è inutile che dicono che il contratto l'hanno parlato, ancora non hanno parlato, e questo è giusto perché è vero. Che incombe? Ma non è ancora certificato, non è certificato da Murigno, che in questi giorni fa il pompiere nell'incendio mediatico che vede alimentare il fuoco di presunte notizie su accordi già raggiunti. No, lo ribadiamo, l'accordo non è già blindato. No, non è che non si può parlare d'accordo, ancora si devono parlare, non c'è proprio niente, adesso. Murigno è pronto a restare, l'abbiamo capito, Augusto, è inutile ribadirlo ogni volta, ma prima deve parlare con il presidente, si concede ancora quel tempo che scadrà fra due mesi, tempo da sfruttare, da sfruttare per la Roma, per fissare l'appuntamento, libera anche di non sfruttarlo, ma le parti si vedranno, ma logicamente che le parti si vedranno. Ma tu, Murigno che dice io fra due mesi a febbraio o rinnovo niente, che è, regà, io se mi metto da parte dei presidenti, ma come faccio io a rinnovare Murigno in questo momento, come faccio io a rinnovare Murigno in questo momento, che non so che competizione faccio il prossimo anno, perché è tutto un ballo. Bisogna un attimino vedere e aspettare, però dici, vabbè, e allora non si può fare. Io non lo so, ragazzi, ma mettetevi nei panni dei frecchi, ma come fai? E rinnova il buio, poi, sì, vince l'Europa League, va in Champions League, eh, ma se non succede questo, che fanno? Il prossimo anno teniamo un allenatore con un ingaggio da Champions League, perché ricordiamo, Murigno sta al terzo anno, primo conference, due d'Europa League, con un ingaggio da Champions League. Murigno è uno che ha un ingaggio, che guadagnano gli allenatori da Champions League, non quelli di basso livello, quelli che poi vanno ai quarti di finale, ai semifinali, è un allenatore che guadagna tanti soldi, perciò quello più chi gli è compro io a Murigno, chi gli è compro a Murigno se non so che competizione faccio, perciò vediamo. A oggi non ci sono ancora accordi, questo va specificato, non si sono visti come fanno a esserci accordi, un passo alla volta, basta fissare un appuntamento, 30 anni fa divende celebre la frase, una telefonata allunga la vita, spot famoso con Massimo Lopez, per una compagnia telefonica, in questo caso una telefonata allunga la vita, il contratto, scusate, allunga il contratto. Stavolta l'attesa non sarà vana, per l'appuntamento, però poi dovrebbero avere la meglio i perché sì, perché, per logica, poi dovrebbero avere meglio la meglio i perché sì, il posto l'aveva fatto già l'altra settimana, per logica, ma quale logica? perdonami, quale logica? Quale logica, Gusto Ciardi? Dimmi, quale logica c'è? Perché dovrebbero prevalere i perché sì? Per chi? Per i sold out? Per i sold out? Per i sold out? E per i sold out? Se la condizione per fare i sold out è a Mourinho, i tifosi della Roma si devono vergognare, io dico in questo, me prendo, dico questa frase forte, se i sold out della Roma in questo momento non sono per la Roma, sono per Mourinho, si devono vergognare, per quale motivo? Perché fa i soldi giovani? I soldi giovani lo fanno i soldi tutti, l'hanno fatto i soldi tutti nella Roma, si fa la Champions League e c'è una rosa forte, io credo che fai difficoltà a fare esordire i giocatori, questo secondo me è quello che penso io ragazzi e vi dico una cosa, vi dico una cosa, questo è il secondo articolo che lui fa in settimana dove spinge il rinnovo di Mourinho, ma io dico, ma Giuseppe Mourinho, Giuseppe Mourinho, 26 titoli, Real Madrid, Inter, Manchester United, Chelsea, Tottenham, i più grandi club, sa parlare 5 lingue e tutto quanto, gli serve Augusto Ciardi che fa questa opera di fate rinnovo a Mourinho, fate rinnovo perché questo ve sta aspettando, ve sta aspettando, questo è pronto a rinnovare, a me mi sembra proprio sminuire la figura di Mourinho, che io vi dico la verità, amo più il Mourinho quando fa lo stronzo e fa il Libraimovic del campo, degli allenatori, che fa lo stronzo che secondo me è il suo carattere, proprio lui così, l'allenatore così, che come ieri che dice che si metta a piangere con Pisilli, per me è proprio là e non mi piace perché secondo me non è lui, Mourinho è tutt'altro, Mourinho è quello che mi ha fatto vedere quello che fa così, o stronzo con Franza Sacchiello, Monaco, lo Monaco Chillo, Monaco di Tibete, quello e quell'altro, il Mourinho adesso che mi sembra diventato buono, arrendevole, che gli va bene tutto, e che qui la condizione nostra sono questa, e perché qui noi non possiamo fare come il Manchester City dei Guardiola, perché a me non mi piace, io invece vorrei rivedere il Mourinho che è arrivato a Roma il primo anno, mi sembra che si è diventato come la mediocrità della piazza, e invece Mourinho è un allenatore calzastici, è un grande allenatore, invece mi sembra che si è medesimato, mimetizzato in questa piazza dove vige la mediocrità, dove adesso va bene tutto, in qualsiasi risultato si fa passare come chissà che, vince i coutinesi in casa, mamma mia, Lecce, i record, le cose, le scudette, le cose, ma perché siamo quarti, non ha capito che siamo quarti, e qua e là, una cosa assurda che prima non esisteva, allora, io dico una cosa, adesso la Roma giocherà a Bologna, Bologna, ragazzi, la Roma per me può vince, perché io ho da vedere le formazioni, ragazzi, queste sono le formazioni, allora, queste sono le formazioni, scusate, Allora, il Bologna scende in campo con Skorupski, ah, regà, Skorupski è quello che c'avamo noi, voi ricordate, Posh, Buchema, Calafiori Centrale, Christensen, Freuler, Abisher, Ndoye, chi cazzo è Ndoye, Ferguson, Salemecker, con Scarto Termina, Zix, ok, ok, la Roma gioca con Rui Patrizio, Mancini, Llorente, Ndiga, Christensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Esciarawi, e Belotti, io, battuto, all'impartenza, non me ce sento con sta squadra, certo che, devi giocare, a pallone, e, non è che poi solo difendete 90 minuti, io spero che, la Roma, io credo, eh, che Mourinho non faccia una partita d'attacco, perché il Bologna, se no, ve lo dico, Bologna, se giochi ad attaccarli, fai il gioco loro, io credo che la Roma deve stare bassa, a Bologna, anche perché mi dicono, da mie notizie, che lo stadio è tutto esaurito, ci sarà una coreografia spettacolare, per Sinisa Mialovic, loro ci credono, sono veramente, fomentati, perciò, sarà una squadra, che tenderà comunque, ad attaccare, e la Roma, se dovrà difendere, difende bene, ok, ma oltre difende, però, devi ripartire, non fa male, perché, non puoi, fa 90 minuti, di partita, in difesa, a Bologna, perché, dagli e dagli, Bologna, è una squadra, che magari, presentamente, gira palla, Zilkse, ha i colpi, li ho visto io, esce fuori, va incontro, fa il falso nuovo, fa il falso 9, fa entra Ferguson, so, gente ti entra dentro, è rischioso, cioè la Roma deve essere, compatta dietro, molto, molto, attenta, ma poi deve ripartire, con 5-6 uomini, perché deve andare, a fare i gol, ai gol, che sarà difficile, segnare al Bologna, che difensivamente, ha una bella fase difensiva, perché lo attaccano, scappano dietro, si difendono bene, non è il Sassuolo, come si difende il Bologna, il Bologna, è molto più organizzata, e anche come uomini, è più forte, del Sassuolo a difendersi, perciò devi fare, una partita intelligente, ma la Roma, come uomini, anche senza Di Bala, e Lukaku, per me, non ce stanno, aspetta, aspettate ragazzi, non è che vi dico, che la Roma, è molto più forte, del Bologna, senza Di Bala e Lukaku, no, però per me, è più forte, è leggermente più forte, del Bologna, cioè uguale, perché se io vado a piare, ingaggi da Roma, c'erano i Belotti, e c'erano i Belotti, Pellegrini, parete, scala, ho detto voi, campioni del mondo, Ragneri, che dici, è Cristante, nazionale, stiamo a parlare di Spinazzola, sì, c'è i problemi suoi, comunque è nazionale, Cristinsen, ragazzi, per me è una pippa, però, nazionale, Gesù Cristinsen, indica, indica, ragazzi, vuole a Barcellona, entra a Francoforte, Llorente, esorditore a Madrid, viene dalla Premier, tutto quanto, e Mancini, Mancini, che è Mancini, Rui Patricio, perciò io credo che la Roma, non è che bisogna piagnarsi addosso, prima di questa partita, che la Roma ha perso, prima di iniziare, la Roma deve andare là, e deve andare a giocare, senza piagnare, senza fa, che la Roma può vincere, deve andare, ma la mentalità, sì, difensiva, perché non te devi scoprire, ma la mentalità, da vincere, deve poter prendere i tre punti, deve andare avanti, e deve fare le azioni, deve creare le azioni, prendi, prendi palla, riconquisti e riparti, poi le devi abbassare, devi fare tutte e due, fase offensiva, e fase difensiva, ma non andiamo là, con la, voglio vedere, ragazzi, io vi voglio, posso dire una cosa, se io vedo la Roma, porca puttana troia, fare la resistenza, 90 minuti a Bologna, e ci fanno una capoccia, così, e poi la Roma vince, con un gol, di merda, io, ve lo dico adesso, lo dichiaro ora, io, non sarò contento, lo dico adesso, non sarò contento, perché, che la Roma va, a Bologna, e capite bene il discorso, la Roma, la Roma, va a Bologna, e se si fa affare, una capoccia, così, da Bologna, io, non vado a vedere, abbiamo preso tre punti, del quadello, no, per me è un'umiliazione, perciò io voglio, una squadra che, difensiva sì, ma che accetta, la partita, o, giocamosela, nazione te, nazione io, io mi difendo, mi metto là, ma io non voglio te, 90 minuti, 23, ti importa, poi magari sì, poi far gol, carcio d'angolo, ma 20, ti importa, dar Bologna, o, siamo la Roma, ma qua non alziamo, sta cazzo, di testa, così poi vince una partita, ok, vince a Bologna, ma non, se a Roma vince così, in una partita, non, comunque, continuità, non la potrai mai avere, avrai vinto una partita, episodi ti saranno girati bene, saranno mangiati 7-8 gol, avrai fatto il gol a culo, ma non, non è quello, a Roma deve andare là, con la voglia di andare a vincere la partita, di creare occasioni, di difendersi, perché a Bologna ti devi difendere, è giusto, ma di creare, di partire, di creare, Roma deve creare, non può fare le partite che ha fatto, Cariacea Societad, con Bayer Leverkusia, con l'Inta, con Slavia, con Monza, con Napoli, con quello con l'altro, dove fai solo resistenza, teschieri davanti l'area di rigore, senza far un cazzo, quelle partite, non le voglio più vedere, voglio vedere partite difensive, ma non così, non così, ve prego, non così, ve prego, monologo,